Per la prima volta il nostro nuovo Vescovo, che io chiamo Don Vito, perché ha un'immagine rassimulante di un parrolo di città e questo penso che sia un complimento, credo almeno sia un complimento. Il suo volto davvero è piaciuto tanto a noi, a dire la sua semplicità e il suo modo di stare insieme a noi. A lei la parola. Grazie. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, un caro saluto alle autorità e un grazie agli organizzatori e tutta questa bella città che anche in questa sfida sportiva fa sentire il meglio di quella che è e che continua ad essere. Io davvero sento di ringraziare gli organizzatori perché più cose si organizzano sul nostro territorio, più la nostra città anche agli occhi dei più piccoli e mi fa piacere vedere tanti ragazzi e tanti giovani, anche particolarmente presenti, tutto questo riveste una grande importanza la nostra città. Prendiamo ai nostri libri e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male, che il Signore sia con voi. vi benedica e vi benedica e vi custodisca di ogni potente Padre e Figlio e Spirito Santo. chi vuole cari un po'. Grazie.